molto bene se hai dei segreti dillo subito non io sei fidanzata no come deve essere lui c'è per me non è che c'è solo un modo come deve essere che il pacchetto che deve essere giusto mi piace il pacchetto come lo trovi questo pacchetto completo è un po' difficile perché io sono sempre in giro un po' qua un po' lì ma deve essere tedesco per forza non per forza no non lo direi quindi diamo speranze si va bene va bene perfetto comunque deve essere alto basso moro non c'è problema mi piace più alto più alto voi siete alti poi deve anche fare sport non è che deve essere un pallavolo però deve fare qualcosa sì perché se no mette la pancetta sì non è anche troppo troppo magro senti ma tu cosa fai per conquistare un uomo non è che adesso io vado a cercare no però hai un'arma non fa lo sguardo sì secondo me inizia sempre un po' con lo sguardo e poi ci parla un po' benissimo senti cambiamo decisamente argomento birra krauti e noi la germania la vediamo un po' così no ecco per i tedeschi tutte queste cose qua sono veramente così buono sono veramente così buono sono tanto di bavaria perché io sono dal nord e poi anche qua tutti mi dicono sempre ah ma ottobre fest sei stata lì io devo dire che non sono stata mai all'ottobre fest perché ci vuole 10 ore se io voglio voglio andare là ho giocato sempre un po' alla volo vuol dire che sempre solo un giorno alla settimana libera che 10 ore sono un po' troppo però sono buoni si sono buoni grauti e birra si beve anche a me piace più panace che si si è misca senti ma un piatto italiano che potrebbe che secondo te è buono tanto quanto giusto alle krauti qual è diciamo la cucina italiana mi piace poi mi piace anche anche le verdure grigliate queste cose molto bene senti gonna o pantaloni tu come ti senti a tuo agio più pantaloni però non a volte anche una gonna allora se io ti dico merkel non c'è voi in germania cosa pensate della merkel non so secondo me lei è brava un po come come persona però non è che lei è proprio il massimo come si veste e non è insomma molto bella però il suo lavoro è un altro no ed è brava una donna proprio di ferro senti qua da noi si parla sempre di spread quando parliamo di giornale si parla di spread anche da voi noi si noi in italia siamo vittime dello spread non fa niente non ti preoccupare perché vuol dire questo questo ci fa capire molte cose del fatto che in germania ovviamente non ne prega niente perché stanno meglio di noi state meglio di noi va benissimo la nostra economia dipende dalla vostra ma non fa niente stai tranquilla non parte né una colpa senti hai un porta fortuna qualcosa quando giochi sì ce l'ho ce l'ho a casa però un piccolo teddy che mi ha regalato la mia mamma tanti anni fa vabbè tu porta fortuna sei una che litiga come litighi bisticci no mi piace più risolvere il problema parlando ultima cosa quindi è andata bene l'attore preferito non so non ce l'ho no tutto bene molto bene è finita è andata bene meno male